Noi continuiamo a raggiungere e a lavorare sul canale diplomatico, diamo la possibilità ovviamente all'Ucraina, al popolo ucraino, all'esercito ucraino di difendersi e tutto il supporto che gli daremo sarà sempre nell'ambito della legittima difesa. L'approccio del governo italiano è quello di costruire un escalation diplomatico, non militare e anche la visita negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio, nell'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Biden, è una visita che continua a lavorare nell'ottica della pace in Ucraina. Allo stesso tempo, come tutti siamo d'accordo, nell'ambito del principio di legittima difesa dobbiamo sopportare l'Ucraina, ma non oltre e questo deve essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione prenderemo.